Squadra dei Vigili del Fuoco di Catanzaro è impegnata per un incidente stradale. Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro di staccamento di Sellia Marina è impegnata dalle ore 18 e 20 circa in località difesa nel comune di Gropani per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Citroen e una Fiat 600, intervento dei Vigili del Fuoco e Valzo ad estrarre il conducente della Fiat 600, rimasto incastrato nell'abitacolo. Lo stesso veniva affidato al personale sanitario del suo M118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. Ferito in modo lieve anche il conducente della Citroen, che al momento è affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Intervento dei Vigili del Fuoco e Valzo altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza. Una corsia della strada statale 106 nel tratto interessato dal sinistro è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso, disagi per la viabilità.